non esiste la dieta perfetta mi spiace ad essere io a darti questa notizia ma qualcuno doveva dirtelo è per il tuo bene anzi per il tuo benessere la dieta vegana la dieta vegana crudista la dieta del ph la dieta fruttariana la dieta senza glutine la paleo dieta quindi carne a volontà la dieta vegetariana la dieta della pasta e potrei andare avanti un'ora con questo elenco il mondo delle diete è in continua contraddizione biologi nutrizionisti e medici che sostengono tutto e il contrario di tutto vuoi sapere come la penso io beh quando parliamo di benessere e saluti associati al mondo dell'alimentazione non esiste nulla di giusto o di sano in assoluto esiste piuttosto quello che è giusto e sano per te ognuno di noi è un essere vivente unico e senza uguali che non può essere paragonato a nessun altro quella che per me può risultare una dieta strepitosa che mi porta mille benefici cambiando la mia vita in meglio per te potrebbe non esserlo o addirittura potrebbe essere dannosa non prendere per vero tutto quello che ti dicono nemmeno quello che ti dico io questo è il mio pensiero la mia verità ma non è detto che lo sia anche per te sperimenta impara a conoscere il tuo corpo ascolta il tuo corpo vedi come reagisce agli stimoli che gli fornisci tramite l'alimentazione e trova la tua strada quella che ti fa stare davvero bene che può essere differente da quella degli altri ma poco importa perché quello che conta è il tuo benessere ma a parte gli scherzi secondo me non esiste la dieta perfetta ma invece esiste la dieta positiva se hai capito bene dieta positiva e non in senso fisico cioè non ti parlo di alimenti che per qualche strana ragione sono positivi o negativi per il tuo organismo ma parli invece del tuo approccio molte persone quando iniziano una dieta qualsiasi essa sia si focalizzano su tutto ciò che non possono mangiare magari all'interno della loro bellissima dieta sono presenti decine e decine di alimenti ma quello che li turba è il fatto di non poter più mangiare quel determinato alimento è come se nella tua vita tutto filasse liscio nel verso giusto lavoro amore famiglia salute e tu non facessi altro che pensare tutto il santo giorno a quell'unico aspetto negativo della tua vita che non funziona che ne so ad esempio il tuo vicino di casa che parcheggia sempre la macchina occupando due posti nel parcheggio condominiale sicuramente un brutto gesto che potrebbe anche darti fastidio ma è davvero così importante da prevalere su tutto ciò che hai di bello e positivo nella tua vita la risposta ovviamente è no lo stesso vale per la tua alimentazione sì è vero che nel momento in cui inizi a seguire un regime alimentare corretto non potrai mangiarti tutti i giorni il panettone con sopra delle fette di salame ma quante altre cose hai la possibilità di mangiare se ci pensi bene questa è anche l'opportunità per te di scoprire tanti nuovi alimenti che un po' per ignoranza o per mancanza di volontà fino ad oggi hai completamente ignorato ma soprattutto ricordati che seguire una dieta corretta non significa in nessun modo privarsi di nulla visto che siamo nel pieno delle feste natalizie non fare la sociale non fare quello che no grazie quello non lo mangio perché sono a dieta che tristezza goditi la vita ma soprattutto vivi in modo positivo la tua dieta se anche ti concedi una fetta di panettoni in più per le feste di natale non succede assolutamente nulla sì è vero sei a dieta ma questo non significa smettere di vivere e di godere stai facendo la cosa giusta ma soprattutto quella che ti farà stare meglio ricordati che il tuo organismo non è stupido troverà sempre il modo di utilizzare e metabolizzare al meglio gli alimenti che introduci se sei stato bravo ad educare il tuo corpo a mangiare in un determinato modo attraverso una corretta alimentazione lui continuerà a farlo stai tranquillo anche per oggi è tutto buon natale e felice anno nuovo e ovviamente buon allenamento ciao ciao